abbonamento solidale jetsit prova numero 48 sono l'edri franco e anch'io ho aderito alla campagna solidale solida ciak prova abbonamento jetsit solidale 40 anni facciamola 50 ciak insomma aderite alla campagna solidale dell'abbonamento di jetsit che costa solo 29 euro trovate tutte le info su www.jetsit.it fatelo perché dobbiamo sostenere la cultura e la musica in ogni sua forma 29 euro cioè niente praticamente vediamo com'è venuto questo Grazie 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 Grazie